però il timer c'è la cina di mezzo che noi ce l'avevamo però ti dico adesso ieri come andrei con il corretto l'ha invitato a cucina a posto per parlarne lei 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 come vai lei 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 ci dico se c'è capitato un giorno di pioggia due giorni dormi e poi altri bene l'altra bene facci bene tutto bene è vero che sentai completamente fare queste cose non vorresti andare mai carai per l'estate non vorresti andare su una parte questi voti noi siamo fatti sempre fortunati che siamo andati che non hanno mai trovato io non ho avuto quindi ma pure a settembre siamo andati ai matrimi che non era periodo da annarci però noi due giorni di un giorno in camera ma a termolo vi fai qualcosa delle montagne no no no